le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di giovedì 21 gennaio ariete marte potrebbe costringervi a fare qualche spesa extra in casa ma nonostante tutto dovete essere generosi nei confronti delle persone che vi stanno a cuore toro cercate di non fare le vittime di fronte ad una difficoltà sul lavoro prendetevi le vostre responsabilità in amore apparite molto più tranquilli gemelli la posizione della luna vi metta dura prova quindi appena potete pensate soprattutto al relax i rapporti sentimentali mancano di qualità e di intensità cancro una giornata molto interessante la luna è dalla vostra parte rende piacevole l'atmosfera nella coppia l'amore del resto è pieno di colpi di scena leone la posizione difficile di mercurio e del sole vi crea parecchio stress e vi sembrerà di non avere le forze necessarie per affrontare tutti gli impegni di questa giornata vergine mercurio vi rende affaristi formidabili mentre la luna congiunta marte urano rende intensi rapporti sentimentali vivrete una giornata molto emozionante bilancia potete contare ancora sull'appoggio della fortuna e dovete assolutamente approfittarne sarebbe il caso di evitare discussioni e concludere una trattativa d'affari al più presto scorpione se dovete affrontare un chiarimento in amore rimandatelo di qualche giorno ora dovete solo dare il libero sfogo alla vostra passionalità senza troppi giri di parole sagittario l'amore non andrebbe mai trascurato venere vi chiede di essere presenti e attenti alle esigenze del partner avrete qualche grana da risolvere sul lavoro capricorno il periodo è sempre molto positivo avete al vostro fianco persone valide in grado di sostenervi nei vostri progetti anche quelli più ambiziosi sorprese in amore acquario marte urano avvelenano l'ambiente domestico mettendo zizzania fra i coniugi e creando attrito tra genitori e figli dovete cercare di mantenere un buon equilibrio pesci ecco una giornata da sfruttare al massimo siete in ottima forma e sul lavoro potete ottenere una grande affermazione poi c'è l'amore che vi fa emozionare e con l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su facebook alla pagina oroscopo di azus